Mustafa, Jamila e Carmen sono tre dromedari e da poco più di un anno vivono alle pendici dell'Etna, nell'oasi del veterinario Santo Fragalà. Si sono acclimatati benissimo perché nel deserto hanno delle forti escursioni termiche, parliamo di 40 gradi di giorno, meno 18, meno 20 di notte. L'unica cosa che non tollerano il dromedario è la pioggia. Con Trada Ronzini, tre castagni, benvenuti nell'azienda agricola Gimala, cammello in arabo. Produrre e commercializzare il latte di dromedari e i suoi derivati, l'avventura nella quale si è imbarcato questo vulcanico 25enne, investendo tutti i suoi risparmi, 50 mila euro per l'acquisto degli animali e l'affitto del terreno. In Italia Fragalà è il primo a provarci, in Europa c'è solo un altro produttore, in Olanda. Il business, seppur di nicchia, è già solido in Dubai, dove nei bar è facile trovare l'oro bianco del deserto. È un prodotto particolarmente indicato per i neonati non allattati al seno, ma anche per nefropatici, diabetici e allergici al lattosio. Fragalà l'ha scoperto durante il dottorato di ricerca nel quale ha studiato le asine di Milo, il cui latte da anni viene distribuito nelle farmacie del Catanese per i bebè. A regime, dentro l'azienda ci saranno un'oasi didattica e due corner per il latte fresco, ma si produrranno anche dolci e prodotti caseari. Al momento le dromedarie sono incinte e non sono mai state munte. Esiste però una linea di cosmetici fatta con latte in polvere importato e ispirata niente meno che alla bellezza di Cleopatra.